Come hai la scelta di giocare a calcio e non allo sport nazionale? Non so, quando avevo 9 anni i miei genitori mi dicevano andare a giocare a calcio, sono andato e mi è piaciuto molto. Tu sei giocato l'ultimo gioco del mercato, ma sarei giocato prima o è stata una cosa veloce? No, non lo sapevo niente ancora, mi stavo aspettando. La prima cosa ti hai pensato quando hai saputo di giocare in una piazza come Lecce? Non lo sapevo che Lecce è una grande squadra, una grande ambizione e sono molto contento di stare qui. La stessa ambizione che c'è a lei? Voglio migliorare, voglio imparare i miei compagni di squadra che sono tutti bravi. Come caratteristiche, come ho chiesto a lui, che attaccante sei? Che tipo di gioco? Sono, non so… E' esterno per esempio? Sì, però posso giocare pure con il numero 9, esterno, sinistro, destro, mi piace giocare uno contro uno. Un giocatore di riferimento che ha un attuale di spirito? Come modello, come caratteristiche di giocatore di attaccante? Non so, sono un giocatore, mi piace giocare con la palla bassa, giocare in velocità. Hai un idolo, un modello tipo, non so, Cristiano Ronaldo, oppure che ti piace, a cui vorresti assomigliare, che ti ispira? Sì, come nel Neymar, come lui gioca, mi piace molto. Tu sei arrivato in Italia con Maggiore Inis insieme, se non parli, no? Siete venuti proprio qua, Maggiore Inis. Sì, sì. Siete venuti in Italia insieme? Sì, sì. Siete venuti in Italia insieme? Sì. L'hai sentito poi, prima di venire a Lecce, che hai detto qualcosa di Lecce? No, non ho sentito. No, no. Non hai visto ancora la confezione di cui sei mangiato? No, perché stai in Nazionale. Ok. Che cosa ti ha detto il mister? Siete venuti nel minuto, che vuole di me, che lo faccio tutto, cosa posso fare. Ti è piaciuto il Lecce di sabato contro il trapano? Non l'ho visto perché sono arrivato sabato sera. Non c'è visto. A Crotone è stato il primo impatto in Italia. Com'è stato questo impatto? È stato bene. Un po' difficile, perché sono molti chilometri di casa. La famiglia, ma io sono qua, però bene, sono qui per giocare e tutto bene. Grazie. 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 Grazie.